Con il Tagia la distanza rimasta immutata, penso che è un punto che costringa anche il Tagia a non fare conti, nel senso non ti dico che siamo pari, ma è come se lo fossero, perché non è che uno può fare calcoli su un punto. Riguardo la partita del Via dell'Acciaio, è un derby, sono una squadra che è stato facendo un attimo campionato, ho allenato bene, ho allenato qualcuno a Molasana, qualcuno a Sestri, e perciò su una squadra che si conosce molto bene, sta facendo per essere una neopromossa, se non è nei pre-op poco ci manca, ora non vorrei dire un'esattezza, ma è a ridosso la zona del pre-op, perciò è una partita da prendere con tutto rispetto, per il più un derby, ho seguito loro allenatori, ho detto che loro vengono per vincere, giustamente, noi non facciamo noi, l'unico risultato è quello, ormai, ecco.